È molto melodiosa, la prima lingua melodiosa nel mondo, però siamo per il dopo della guerra e stiamo pensando che noi possiamo ricostruire il paese e dare un nuovo impulso per il prossimo sviluppo. Una delle priorità per noi è la mia visita qui in regione d'Abruzzo, per capire che noi non chiediamo alcun tipo di assistenza economica, finanziaria per le regioni d'Abruzzo, ma soprattutto siamo interessati a sviluppare questi rapporti tradugenti sulla base e sul fondamento, soprattutto nel settore. Come ho già detto, il rapporto sono dei cittadini tradizionali, ma soprattutto nel settore. Grazie mille. Grazie mille. E' veramente... ...e' di storia e paesaggi di Abbruzzo. ...e' questi rapporti di buona collaborazione che hai.